Siamo con Pier Dante Piccioni, medico, esperto, cultore della medicina d'emergenza, del pronto soccorso, ma conosciuto ultimamente come Doc, perché è il vero Doc, colui che ha ispirato anche la serie televisiva che ci ha messo ancora una volta nel mondo dell'ospedale, della medicina, della cura, perché in questo modo si è raccontato un po' della sua storia. Pier Dante, dottore, forse l'hai detto tante volte, ma puoi riassumere che cosa ti è capitato e che segno ti ha lasciato quello che ti è capitato? Sicuramente, Don Roberto, grazie dell'invito e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando intanto. Allora, il 31 maggio del 2013 mi trovano con la macchina capotata dietro dove partono le ambulanze dal pronto soccorso di Pavia. io abito a Pavia, mi trovano in coma, mi sveglio dopo circa 6 ore e avendo preso una botta la parte sinistra del cervello, il contracolpo alla parte destra, mi ritrovo che faccio fatica a parlare con la mano e con la gamba che si muovono molto molto poco, ma soprattutto alla domanda che giorno è oggi, io ci penso e farfuglio un oggi è il 25 ottobre del 2001, 31 maggio 2013 l'incidente, 25 ottobre del 2001, la botta in testa e l'assenza di ossigeno anche per poche ore mi aveva dato un buco di memoria di 12 anni e lì comincia la mia storia un percorso che adesso tutti conoscono perché qualcuno l'ha fatto proprio, l'ha impersonato per la serie tv, ma è un percorso vero perché in tutto questo tempo che è passato dall'incidente Pier Dante Piccioni ha compiuto un percorso di vita e di comprensione di sé. La cosa che ho colto in tanti tuoi interventi e anche nei libri che hai scritto è un mantra che si può dire io non sono il mio referto, che cosa significa questo? Significa che per un medico passare dall'altra parte della barricata, cioè diventare un paziente ti cambia completamente il punto di vista, nella vita credo che per migliorarsi occorra cambiare ogni tanto il punto di vista. Diventare paziente per me ha cambiato completamente il mio approccio e mi sono reso conto che a volte noi medici eccediamo nel considerare i risultati delle analisi che chiediamo e ci dimentichiamo che abbiamo davanti invece una persona, una persona che ha anche quella malattia, ha anche quel referto, ma non è né quella malattia né quel referto. Io ho imparato su di me a non voler essere giudicato per quell'amnesico, quello che zoppica la gamba di destra, quello che è prefrontale, ma voglio essere giudicato e voglio essere accolto come quello che ha anche tutti quei referti, quindi cerco di farlo come medico. Perché quello che esce anche dalla serie tv che ha avuto tanto successo è proprio il medico che ha un approccio diverso verso i malati e che fa fatica ad essere compreso anche da quelli che gli stanno attorno perché vorrebbero magari più rigore, più fermezza, più distacco, invece sembra che la tua esperienza, che poi è riversato anche nei tuoi scritti, che sono diventati la base per la serie tv, è proprio inversa. Questo percorso è interessante e che cosa, diciamo, non molti sono medici ma tutti siamo pazienti, quindi che cosa insegna questo al paziente verso il medico e che cosa del medico verso il paziente? Bella domanda e insegna tantissimo perché l'incidente mi ha cambiato il carattere proprio. Tutti mi dicono che mentre io facevo il primario del pronto soccorso di Lodi, il professore all'università, il consulente al Ministero della Salute, mi dicono che ero una persona un po' dura, un po' algida, un po' carogna anche, gli epiteti e i soprannomi che mi avevano dato non erano certamente onorevoli e io faccio un po' fatica a riconoscermici anche in quelli perché non non è che mi ci immedesimi o me lo ricordi. Tieni presente che io quei 12 anni di buco nero non li ho recuperati con i miei ricordi ma solo con i ricordi degli altri. Ecco, questo cambio di carattere mi ha aiutato a essere più empatico, a ascoltare di più i pazienti e a mettermi allo stesso loro livello. Sarà anche una questione fisica ma quando tu ti trovi su una barella vedi il mondo dall'altra parte perché noi medici siamo abituati a guardare i pazienti dall'alto verso il basso. Beh, guardare il mondo dal basso verso l'alto è un'esperienza molto molto importante soprattutto per un medico ma credo per chiunque. E quindi sentirti ribaltato nella tua posizione dall'essere nell'alto passare al basso, come da medico hai vissuto le cure verso di te? Che cosa ti ricordi di tutto il percorso che hai fatto con qualcuno che ti diceva quello che dovevi fare? Cosa sentivi come esperto, come medico? Perché nonostante 12 anni di amnesia però eri ancora medico. E allora, come sempre ti ricordi o le cose molto belle o le cose molto brutte delle tue esperienze e le cose molto belle è avere trovato amici e colleghi che mi hanno detto noi non ti diciamo cosa fare, ti invitiamo nei nostri reparti per ricominciare a rivivere, non a tornare quello che eri prima perché questo invece è l'errore di chi, e queste sono le cose brutte, ha pensato che di dover fare i confronti, cioè che io volessi diventare, ritornare quello di prima. Anch'io all'inizio l'ho fatto, è stato l'errore più clamoroso che io potessi commettere, quello di fare i confronti tra quello che ero diventato e quello che ero prima. No, il tempo non torna indietro, tu devi trasformare davvero un danno in una risorsa, provarci perlomeno e da lì ripartire. Non vuol dire dimenticare il passato, ma vuol dire avere una prospettiva verso il futuro. Dottore, tu lo dici un po' col sorriso sulle labbra, ma comprendiamo tutta la sofferenza che c'è dietro questo, e quindi questa sofferenza forse è quella che ti ha segnato di più e ti ha fatto evolvere, quindi si può dire quasi con certezza, direi scientifica, che la sofferenza può aprire nuove strade. Sì, assolutamente sì, ne sono convinto. Forma, la sofferenza forma e la sofferenza ti dà la possibilità di vedere oltre. Può sembrare assurdo, ma la sofferenza è un dono, che al di là dell'essere cattolico, io sono cattolico, ma non è solo quello, è proprio lo sperimentare qualche cosa che ti aiuta ad andare oltre, che ti fa arrivare a dei limiti e anche a superarli. Certo devi avere un obiettivo, devi avere una struttura, qualcosa di certo, devi avere dei valori, devi avere qualcosa per cui lottare. Per me sono state due le cose fondamentali, la famiglia, cioè moglie, figli e gli amici, sono le due cose che mi hanno gli obiettivi. Mi ha aiutato anche la fede, perché certamente quella mi ha aiutato e parecchio. Ecco, quello che intendo dire è che davvero devi porti degli obiettivi e perseguirli, pensando che ce la puoi fare davvero. L'obiettivo più grande del periodo del post-incidente era forse quello di tornare un po' più te stesso e di riprendere la tua personalità, perché diciamo sei ritornato poi a fare la tua professione. Questo è molto importante. Ma quali sono stati gli ostacoli che vedevi attorno a te? E allora, io mi sono fin da sempre fatto una domanda, che è quella che mi faccio da quando ho 14 anni. Cosa vuoi fare da grande, Pier? Invito tutti a farsela tutti i giorni, che cosa vuoi fare da grande, qualunque età tu abbia? E la risposta è sempre stata quella, io voglio fare il medico. Per cui gli ostacoli erano, come fa un medico senza 12 anni di medicina a fare ancora il medico, ti faresti curare da un medico che ti dice guarda che mi sono perso gli ultimi 12 anni di vita, mi dispiace, però magari ce la facciamo. Ecco, partire da quello per ristudiare e superarli tutti gli ostacoli. Mi hanno fatto decine e decine di test che io ho chiesto che mi facessero perché io volevo dimostrare che ero ancora in grado di, senza voler tornare quello di prima, da quello che ero, da quello che mi era rimasto, partire e andare. Che è un po' il mio concetto di disabilità. Io sono un disabile e la disabilità è partire per i 100 metri 10 metri indietro. Ci vuole uno sforzo in più. Eh sì, ci vuole qualche cosina in più, però l'obiettivo magari ci metti, anzi sicuramente ci metti di più. Vedi Bolt, vedi Jacobs che sono andati ben oltre, però arrivi anche tu alla fine. E la tua esperienza nella medicina d'urgenza, quindi dover far fronte a delle situazioni che chiedono una risposta immediata, ti ha aiutato nel tuo percorso, che cosa ti ha dato in più? Uh sì, essere medico d'urgenza mi ha permesso intanto di affrontare davvero in maniera veloce le situazioni e l'essere medico d'urgenza ti dà una caratteristica, non essere un super specialista di tutto ma sapere un po' di tutto e quindi anche nel tuo recupero avere un quadro un po' più generale è importantissimo perché sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico il mio recupero è stato lungo, è stato complesso, è stato in più settori. Essere medico d'urgenza è stato un valore aggiunto. Ma il tuo caso è un caso unico al mondo o esistono situazioni uguali alla tua? Guarda Don Roberto, tutti gli anni in Italia ci sono circa 400 persone che prendono una botta in testa, trauma cranico e hanno una perdita di memoria retrograda, cioè antecedente al trauma, superiore ai 7 giorni. Questa è quella che viene definita amnesia retrograda prolungata, stiamo parlando sempre del post trauma, sono pochissime 400 persone, i diabetici in Italia sono 6 milioni per dirti, però esistono e la cosa interessante e da un lato anche divertente è che io sono diventato un collettore per queste persone perché spessissimo ricevo mail, telefonate, guardi a mio marito è successo una cosa come la sua, mi aiuti, guardi mio figlio, mia figlia ha perso la memoria e ho finito per diventare un po' davvero un orientatore. Un polo di riferimento. Un polo di riferimento per queste persone e spesso l'utilità è il dire ti racconto la mia storia, poi è chiaro che ho anche una visione tecnica e specifica, però il sapere che c'è qualcuno come te è molto molto importante. Che aiuta ad andare avanti, a dare una prospettiva. Bene, grazie dottore, ci fermiamo un attimo e poi continuiamo. Grazie. Ok. Siamo ancora con Pier Dante Piccioni, medico, dottore, professore e soprattutto con una grande esperienza che ha divulgato tramite la scrittura, tramite romanzi, libri che sono diventati anche una serie televisiva famosa seguita da tanti e allora vorrei chiedere era una esperienza già precedente oppure è diventato un grande scrittore, un grande sceneggiatore grazie a proprio l'esperienza che è successa in seguito all'incidente e all'amnesia? non ero uno scrittore, grazie del grande ma non ero né uno scrittore né uno sceneggiatore, la necessità di scrivere è stata per rappresentare, io sono sincero, ho cominciato a scrivere per me, ho cominciato a tenere un diario perché volevo rappresentare i miei fantasmi, a scrivere dopo che scrivo io sto meglio e è importantissimo e mi sto occupando adesso dal punto di vista medico di scrittura come terapia e il mondo medico si sta interessando tantissimo e soprattutto in questi ultimi anni anche durante il covid alla scrittura davvero come forma di terapia, tu che scrivi di te accelere il processo di guarigione e l'altro campo interessantissimo che sto percorrendo è quello della musica come terapia e anche qui il mondo medico, il mio mondo si sta interessando in maniera veramente importante soprattutto in questi ultimi anni del come davvero ci siano delle terapie non convenzionali che sono appunto la scrittura che riempiono l'aspetto clinico della medicina assolutamente sì, lo supportano ma proprio si sta ragionando e ci sono già esperimenti molto molto efficaci di pazienti, non il medico o l'infermiere che scrive di te nella cartella clinica quando tu sei ricoverato ma tu che scrivi di te stesso e guarda un po' questo riduce i tempi di degenza. Interessante, allora il primo libro mi sembra meno 12 questo, meno 12 che cosa che si raccontava, da che cosa ha cominciato? E quello è l'origine di tutto, quella è la genesi senza offendere le sacre scritture e l'antico testamento però è il racconto del come è andata, io e Pierangelo Sapegno che è il giornalista con cui scrivo i libri ci siamo dati come cifra nella scrittura ma poi anche nella sceneggiatura raccontarle esattamente come è andata, partire dalla storia vera e poi chiaro romanzandola anche un po' però la base sia nella scrittura che nella sceneggiatura deve partire dalla realtà e il primo libro meno 12 è esattamente come è andata dal momento dell'incidente a quando sono tornato a fare. Ed è stato quello il libro che è stato selezionato diciamo dagli sceneggiatori per costruire? Quello è il secondo pronto soccorso storia di un medico empatico che è il racconto del mio fare il primario del tornare a fare il medico e il primario è pronto soccorso di Codogno, peraltro cittadina sconosciuta nel mondo oramai purtroppo conosciutissima e quelli sono stati la base che hanno generato un'asta tra varie case di produzione vinta dalla Lux Vide che tra parentesi è la casa di produzione di Don Matteo, è un passo dal cielo che Dio ci aiuti, i medici, proprio una delle più importanti se non la più importante. E soprattutto che ha una volontà editoriale particolare che viene dai fondatori e che vuole comunicare qualcosa, quindi alla fine quando hanno colto nei tuoi scritti qualcosa di interessante, al di là di questa amnesia particolare, cos'è che metti nei tuoi libri che può passare in uno sceneggiato ed essere interessante? Il messaggio è doc uno di noi, uno che cade, un perdente di successo, uno che trova nel rapporto con gli altri, nell'empatia, la possibilità di riscattarsi, di tornare a fare quello che faceva prima in un modo un po' diverso. È un grande messaggio di speranza, è quello sul quale ho insistito tantissimo, trovatemi tutte le amanti che volete, fatemi diventare quello che volete, ma il messaggio di questo disabile che attraverso il rapporto con le persone e la condivisione, l'empatia proprio nel rapporto, riesce ad aiutare se stesso innanzitutto, ma anche ad aiutare gli altri, riesce ad essere terapeutico e per un medico essere terapeutico non è solo darti un antibiotico, fare una diagnosi corretta, ma è stare con te e condividere. Diciamo che è un cerchio che si chiude perché tu nello scrivere hai trovato una cura per te stesso e nel comunicare agli altri hai trovato anche un modo di far sapere come curarsi e anche di dare una strada di comprensione della medicina, c'è sempre bisogno con un approccio diverso. Sei soddisfatto di quello che hai visto nella serie tv, che cosa manca, che cosa aggiungeresti? Sono soddisfatto, peraltro io sono stato parecchio tempo con Luca Argentero che è sempre molto carino e dice una cosa interessante, dice la gente pensa che per un attore sia più facile interpretare, non so, Leonardo, perché non sappiamo, aveva la R Mosha, Zoppicao, non lo sappiamo bene, per cui uno può anche inventare. Lui dice nell'interpretare Doc io sono stato avvantaggiatissimo, l'ho copiato e gratificato. Quindi lui è la copia. Esattamente, lui scherzando dico sempre io sono l'originale, tu sei la copia e sorridiamo insieme. Oltre al cast, dicevo, la bravura dei produttori, dei registi, la sceneggiatura veramente di altissimo livello, che è rimasta però fedele a alcuni fili rossi della mia storia, l'amnesia, i 12 anni di amnesia e il rapporto conflittuale con i figli, ma la voglia di questa persona di usare la sua disabilità come un grimaldello, come un grilletto per arrivare davvero al cuore delle persone, curare gli altri per curare se stessi. E questo è molto bello, forse è quello che traspare dalla tua persona, dalla tua voglia di comunicare anche perché è vero che per te è una sofferenza magari ricordare alcuni momenti, però lo fai col sorriso sulle labbra e lasciando un messaggio, quello che si può riuscire. Sì, ce la puoi fare, sì, ce la puoi fare anche usando un po' di ironia e di autoironia che non guasta mai, però ecco il messaggio è mi aveva andato per finito e finito non ero, quindi io non sono, torniamo all'inizio, io non sono il mio referto, non sono quella roba lì, io sono quello che se mi dai una mano ce la facciamo. E ce la facciamo insieme perché hai detto che la famiglia, gli amici sono stati il supporto per questo percorso molto impegnativo, molto pieno di ostacoli. Ecco, il fatto che tu dici continua, significa che forse noi vediamo una persona realizzata, addirittura a nastro d'argento per la sceneggiatura della serie tv, tante cose belle, ma che cosa che deve continuare per tenere il livello così alto? Nel rapporto con i miei figli ad esempio ci sono ancora dei sensi di colpa che dobbiamo superare, io non ho riconosciuto i miei figli, io volevo i miei bambini che pensavo fossero morti con me nell'incidente, non volevo quei due figli che non erano propriamente la realizzazione dei sogni di me come papà, lì ho capito che i nostri figli non sono i nostri sogni, sono qualcosa che qualcuno ci ha prestato per aiutarli a dare il meglio di sé, non riconoscere i propri figli e i miei figli, condividere ancora esperienze con un papà che non ti riconosce e ci stiamo ancora lavorando Don Roberto perché non è proprio semplice o con mia moglie i confronti, i miei familiari avrebbero voluto che tornasse il pier di prima, ma quel pier di prima non c'era più e ci si riesce a sopravvivere se accetti la diversità dell'altro e questo è un grandissimo messaggio che ho imparato, accettare la diversità dell'altro è qualche cosa di complicatissimo, figurati quando tu devi accettare te stesso come altro e lì è ancora più complicato, è per quello che ci sto ancora... È impegnativo e questo sta producendo altri libri, altre riflessioni, ci sarà un seguito anche per le serie tv, state pensando a qualche cosa di interessante immagino? Stiamo ragionando, ovviamente stiamo già pensando a Doc 3 e io e Sapegno stiamo già pensando ad altri libri anche perché, e questa è una cosa stranissima, la realtà davvero supera la fantasia, continuano a succedermi cose, ad incontrare persone che meritano di essere raccontate e è tutto su un filone davvero di empatia e di riscoperta di valori ma fondanti, di valori importantissimi che non possono prescindere dall'essere accolto e dall'essere accettato e quindi dall'accogliere e dall'accettare. Quindi l'aspetto chiave è l'accogliere quello che accade e poi saperlo rigiocare in un modo nuovo, con tanta ironia, penso che, non so se c'è anche un fatto, è vero che è drammatica la cosa ma c'è anche qualche fatto simpatico che ti è capitato dovuto a questa amnesia e quindi forse quello della Juve è quello che... Beh, allora io da Juventino ho tanti, peraltro ho la fortuna di avere tanti amici interisti quindi hanno un altro punto di vista e qualcuno mi dice io lo so perché tu hai perso la memoria, non sei riuscito ad accettare l'Inter col triplete oppure la Juventus in serie B, no in realtà una delle cose che non riesco ancora ad accettare e faccio davvero fatica è la storia dei due papi, quando mi hanno detto all'inizio che c'erano due papi ho fatto vedere la fotografia e ho detto ma che bel fotomontaggio questo qui e mi ha detto no guarda che non è un fotomontaggio, dai per cortesia, ho detto io vengo dalla scuola, morto un papa se ne fa un altro, ho ancora qualche problema a trovarmi, bisogna accettare la rinuncia di papà benedetto, l'accettazione dell'altro diventa proprio lì un esercizio molto molto... Quindi anche quello fa parte di questi aspetti da riconciliare, da riconciliare assolutamente sì, da accettare, da accogliere. Penso che il grande insegnamento del dottor Piccioni, Pier Dante è proprio quello di accettare la realtà e usarla per il bene, questo è quello che ci lascia come un dono che va avanti e che continua. Grazie, penso un'ultima parola che vuoi dare a chi ti vede poi anche impersonato da Luca Argentero... Allora, quello che è davvero il mio obiettivo è quello di far emozionare le persone perché mi emoziono anch'io, ecco, e far capire che c'è davvero una base, anche se si chiama fiction, c'è davvero una base di verità che è imprescindibile, si parte sempre dalla realtà, si parte dalle storie vere per poi arrivare a discutere anche di altre cose, modificandolo un pochettino, ma se non parti dalla verità non riesci ad arrivare al cuore delle persone. Dalla testa al cuore. Grazie dottore, grazie il vero doc. Grazie a voi. Grazie a voi.